Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio dei Potential Upgrades, non transfer, Upgrades di gennaio. Vi porto 3 giocatori particolari, soprattutto i primi due, perché potrebbe esserci una sorta di upgrade per le stelle abilità. L'anno scorso è successa questa cosa, ed è successa a El Sharawi, che da 3 stelle abilità è passato a 4 stelle abilità, visto che aveva iniziato in 3 stelle abilità, poi non si sa per quale motivo è diventato 4 star skill. Comunque potrebbe succedere anche quest'anno questa cosa. Ma forse anche migliore rispetto all'anno scorso. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito dicendo che se questo video raggiungerà come sempre oltre i 400 mi piace, uscirà subito un nuovo video e vi invito sempre a scrivermi nei commenti qualche altro giocatore da trattare nel prossimo video. Partiamo subito col primo giocatore di oggi, una conoscenza della Serie A. Stiamo parlando di Paul Pogba, che quest'anno ha totalizzato, in questa prima metà di stagione, in 25 partite 8 gol e 3 assist, una media davvero invidiabile per un centrocampista. E questa, secondo me, potrebbe essere la sua versione upgrade di gennaio. Come possiamo notare, è una notizia che comunque sta ronzando nell'area e potrebbe trasformarsi Pogba in un 5 star skiller, da 4 a 5 stelle abilità, quindi. Questa sarebbe comunque l'upgrade, questo sarebbe l'upgrade delle varie statistiche che io ho predetto, dove troviamo un più 1 in velocità, un più 3 di tiro che è necessario, visto che per un centrocampista lui segna davvero spesso, un più 1 in passaggio, vabbè, non ha fatto tantissimi assist, ma comunque un più 1 ci sta, più 2 in dribbling, perché comunque se gli aumenti le stelle abilità necessariamente devi aumentare il dribbling, e poi un più 2 in difesa e un più 1 in fisico, renderebbero questo giocatore davvero una bestia. Se ci fate caso, comunque il prezzo di Pogba ultimamente sta salendo tantissimo. Prima del Toti, il suo prezzo era dai 25 ai 30, massimo 32 mila crediti, sto parlando ovviamente per Playstation. Adesso il prezzo è oltre i 50 mila, stiamo toccando i 55 mila e probabilmente più avanti si andrà, più costerà questo giocatore. In ogni caso lui ha ricevuto due versioni IF, la prima, la versione 84, si trasformerà nella versione 85. La versione 85, come potete vedere da questa immagine, si trasformerà in una versione 86, ovviamente nel caso venga upgradato, con delle statistiche veramente improponibili. Già la sua versione SIF costa oltre un milione, quindi non oso immaginare quanto costerà la versione 86, davvero davvero devastante. Comunque, il secondo giocatore che trattiamo oggi, stiamo parlando di un giocatore che gioca in Premier League, e cioè Yannick Bolasi del Crystal Palace, che quest'anno non sta facendo una stagione della Madonna, nel senso ha fatto un gol e 4 assist in 20 presenze. Ma la cosa da dire è che questo giocatore potrebbe trasformarsi anche lui in un 5 star skiller, come potete vedere da questa immagine. Io non ho voluto aumentare le sue statistiche, perché comunque ha fatto una stagione normalissima. Soltanto che lui dimostra di avere 5 stelle abilità per come gioca in realtà, anche se tra l'altro lui ne ha 3 di stelle abilità in questo gioco, cosa abbastanza ambigua. È difficile comunque far upgradare un giocatore le stelle abilità, però soprattutto da 3 a 5. Però comunque sappiamo che da questa EA Sports si può sempre aspettare di tutto, perché è abbastanza imprevedibile come società, e quindi io spero che Bolasi possa ricevere le 5 stelle abilità che merita, secondo me. Terzo e ultimo giocatore di oggi, stiamo parlando di un altro giocatore della Premier League, e cioè Cesc Fabregas, neo acquisto del Chelsea, qualche mese fa, che in questa stagione ha totalizzato in 30 partite, 4 gol e 20 assist. 20 assist è davvero una cosa incredibile, ed è uno dei protagonisti di questa grande stagione del Chelsea, ovviamente quest'anno. Questa sarebbe la sua trasformazione, il suo upgrade di gennaio, che secondo me è necessarissimo, perché è uno dei migliori giocatori del Chelsea attualmente, con un più uno in velocità, un più uno in tiro, un più quattro in passaggio necessario, perché con 20 assist all'attivo in metà stagione penso che sia abbastanza necessario. Poi gli ho messo un più uno in dribbling, più due in difesa e più due in fisico, trasformerebbero questo giocatore davvero in una bestia clamorosa, secondo me. Comunque raga, anche oggi l'episodio finisce qui, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, a 400 mi piace uscirà un nuovo video, come ho detto prima, fatemi sapere se vi è piaciuto, e fatemi sapere nei commenti qualche altro giocatore da trattare nei prossimi video, e ovviamente iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate sempre in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!